La LND aggiorna il protocollo per il mondo dei dilettanti. Da ieri sera infatti è ufficiale che anche in serie D ci sarà l'introduzione dei test antigenici e quanto previsto già per il mondo professionistico. La Commissione Medico-Scientifica Federale ha ritenuto ragionevole e affidabile infatti utilizzare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 in alternativa ai test molecolari e anche i test antigenici quantitativi, prevedendo l'inserimento obbligatorio di un test settimanale entro le 48-72 ore antecedenti la disputa della gara per tutto il gruppo squadra individuato dalle società. Laddove il test rilevi la presenza del virus l'atleta dovrà essere considerato un contagio, andrà posto in isolamento o quarantena e non potrà essere schierato in campo. In caso la positività derivi da un test antigenico rapido, sia il soggetto positivo conclamato che quello debolmente positivo dovrà essere considerato a tutti gli effetti un contagio ed essere sottoposto ad un test molecolare di conferma. Qualora la società ritenga di porre in atto ulteriori misure di controllo clinico e strumentale, potrà attivare in autonomia ogni iniziativa ritenuta utile. Raccomandato è l'utilizzo almeno iniziale di test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2. Tutti i componenti del gruppo squadra dovranno comunque compilare almeno settimanalmente, ogni qualvolta si verifichi un mutamento dello stato di salute individuale o se ne presenti la necessità, l'autocertificazione sul loro stato di salute e su eventuali contatti con soggetti covid positivi intervenuti nei giorni precedenti, l'allenamento, la gara o comunque l'ingresso presso il campo di gioco di allenamento da far pervenire al medico sociale o al medico addetto al protocollo. Con la modifica dello stesso, la gestione dei casi di accertata positività al virus consente il proseguimento degli allenamenti per i soli componenti del gruppo squadra che non siano positivi. In ogni caso è obbligo del medico sociale o del medico addetto al protocollo in caso di positività al test molecolare o antigenico rapido, darne immediata comunicazione alla ASL competente per territorio e al medico di medicina generale. Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. La gradualità di ritorno dell'atleta agli allenamenti e alle competizioni dovrà essere valutata dal medico sociale del club o dal medico addetto al protocollo, in relazione al quadro clinico di riferimento e al contesto e alla durata dell'interruzione dell'attività dovuta alla malattia.